Noi siamo degli imprenditori, i ricercatori sono degli imprenditori e quindi come un imprenditore è impegnato costantemente nel pensare alla sua attività e noi facciamo la stessa cosa. La ricerca come un flusso inarrestabile di curiosità e scoperta sarà protagonista di Sharper 2024, venerdì 27 settembre, la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Per la prima volta anche Urbino parteciperà all'evento che coinvolge altre 14 città italiane oltre ad Ancona e Camerino nelle Marche. Incanto nella Notte della Ricerca, questo il titolo del primo appuntamento che alle ore 16.45 al Collegio Raffaello aprirà questa edizione. Da qui in avanti prenderanno il via una serie di iniziative, circa 70, tutte dedicate alla ricerca, tra queste la grammatica della fantasia alla biblioteca San Girolamo, la sfida all'intelligenza artificiale al Collegio Raffaello, mostra e dimostra i laboratori dell'università aprono le porte a Palazzo San Michele di Fano, dal marketing al neuromarketing, la forza delle neuroscienze al Collegio Raffaello, il viaggio nella tutela della biodiversità in Piazza Rinascimento, archeostorie della terra a Palazzo Albani. Una Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici che sarà dunque multidisciplinare, multicanale, finalizzata a promuovere un'educazione di qualità e accessibile alla conoscenza come diritto fondamentale per tutti i cittadini e le cittadine. Sono da diversi anni che ci chiedevamo di voler far qualcosa per far conoscere anche quali sono le nostre competenze nell'ambito della ricerca e siamo riusciti a entrare in questo progetto che esisteva già da qualche anno, che comprende una quindicina di atenei in tutto il territorio italiano, quindi ci fa molto piacere. Si chiama Notte delle ricercatrici e dei ricercatori perché le ricercatrici e i ricercatori sono in piazza, ma in realtà è una notte in cui cittadini di tutte le età e visitatori sono invitati a cogliere un'opportunità straordinaria di venire a contatto con ricercatrici e ricercatori per capire che tipo di ricerca si fa magari anche dentro quegli edifici davanti ai quali passano quotidianamente. Ad Urbino ci sarà tantissima ricerca in piazza, ma in realtà non solo in piazza perché sono 12 le sedi in cui si svolgeranno ben 70 eventi. Per eventi intendo cose assolutamente non convenzionali, per cui saranno spettacoli, dimostrazioni interattive, possibilità di visitare laboratori. Il punto centrale sarà la Piazza della Repubblica con il cortile del Collegio Raffaello, ma da lì si diramerà e si potranno avere informazioni su quali sono tutte le sedi visitabili. Un approccio divulgativo, fruibile da parte di tutti, anche per i giovani, i bambini, anche con dei momenti di divertimento che consentono appunto di capire che il lavoro di ricerca dentro le università non è qualcosa di astratto, noioso e lontano dalla realtà, ma qualcosa che poi si ripercuote anche sulla vita di tutte le persone, appunto anche in modo divertente. Quindi è veramente un'occasione per far incontrare la cittadinanza, ma non solo quella di Urbino perché l'evento è di grande rilevanza e contiamo di attirare persone anche da tutta la provincia e far vedere ancora una volta quanto Urbino sia aperta alla contaminazione della conoscenza, dei sapere, quindi un centro culturale indubbiamente di grande importanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.